Salve a tutti ragazzi e bentornati su Q2S Server 2 con la prigione degli youtubers Ehm... è successa una cosa, l'ultimo gameplay ero finito in gattabuia Ehm... ho riniziato e probabilmente non avendo salvato mi ha rimesso tutto Perché ho proprio regequittato violentamente Quindi meglio così! Non lo farò mai più, però non lo sapevo neanche Quindi non lo farò mai più e... avevamo appena iniziato il gameplay Sono andato alla ri... ho visto uno per terra morto Credo sia stato proprio sinergo a essere morto pestato dagli sbirri E... sono riuscito a prendergli una cosa molto simpatica Il... la crafting di... dove sta? Timber Batsheet Questa qua, una... una... una vela praticamente Non so a che cosa serva ma... ci arriveremo Ci arriveremo... prima o poi capiremo Pep... Pepo due volte lo dobbiamo picchiare Perché da sinergo... locate a teddy bear for stepney Che non riusciamo a trovare il suo teddy bear Ok... andiamo avanti Vediamo un po' qui Unlocked... questo 35 Dobbiamo unlockarlo Ehm... jumpy tech Picchiamo jumpy tech? Ah no, perché siamo all'aperto Joker... dove è Pepo? Jumpy... ti stalkerò jumpy Minchia, toglie... no, non toglie tanto Io tolgo il meno 5 Andiamo un po'... oh, sock Dovrei... Moonvredez... dove, dove? Devo andare... ah, excessive period Ok, scusate... scusate... Sì, sì, scusate, scusatemi Ok, come vedete Sono facendo gli esercizi Sono molto bravo a fare gli esercizi Tutti a fare la doccia Yeah... voglio sapere come si sfondano sti muri So con le forchette ma magari ci vuole più... più resistenza Speed sta... sta rallentando Tutto il resto è aumentato Ah, questo è il Leavening Mill Ok, devo distrarre le guardie Come le distrago? Picchiando Marcus Krohn Dov'è Marcus? Vabbè, picchio Sinergo Non sta solo Ok Eh, aiuto! Madonna, 48 Ah! Aiuto Si stanno inseguendo... Si stanno menando con Sinergo Mi faccio allegramento i fatti miei Poi torno Ok, posso rubare qualcosa Sinergo Oh, plastic Pedicure kit Spatula Ok La spatula Che macello sta succedendo qui dentro? Io intanto mangio Ah, perfetto Devo fare... Devo picchiare qualcuno Perché devo prendere... Devo catturare l'attenzione delle guardie Ho picchio Marcus Krohn Tanto lo penano tutti quanti Dai, ah, scherzavo Cioè, è Marcus Krohn Cioè, l'avete menato tutti fino a poco tempo fa Arriva a fare Dai, sacco il co Ho preso un po' di soldi, però E devo ancora menare Pepo Questa è la cosa importante Picchiare Pepo Ok, vado in cella Lascio delle cose Tipo questo, questo e questo Che non mi servono La spatola potrebbe tornarmi utile Questo chiedimi che è Pepo No! Nooo Devo iniziare tutto da capo Nooo Eccolo Dove andiamo tutti? Troppa gente vicino a Sinergo Dai, andate via Eccoli No! Cazzo è andato a lavorare Pepo, vediamo se lo riesco a prendere Eccolo Tan 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 No! No, no, no M'hanno visto tutti M'hanno visto tutti Via, 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 via Marcus Kron Oh, bam Te ne manca un altro? Devo prendere Po' di vita, 5, 6, 6 Se posso? Oh, quanto mi toglie Marcus Kron? Come ha fatto a rubarmi Ah, no, no, non mi ha rubato il vestito 4 Ah, aiuto, aiuto Cazzo, sto a uno Oh, 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 no, no Devo andare a riprendere Ehi, stai per morire? Che faccio? Oh Che c'ha? Questo poi io lo posso togliere Oh, il biscotto Eh, cazzo Quando mi servono le cose? Niente Cavolo Il biscotto lo posso tenere nella mia scrivania Ah, no, questo Questo glielo metto nel cesso No L'ho scaricato No, anima Non ti volevo menà Vabbè, ma ho visto che mi trovo Quindi mazzate da me, anima Silk E questo qui Uno, due, tre Eh Ah, ah, ah Ma è fighissimo Questo non si può tenere, però Lo posso mettere nel cesso Per il momento Non nel mio cesso Ragazzi, dai Stasera si Si tenta il tutto per tutto Devo picchiare Murri Dove è Murri? Eccolo qua Stop Shoot that Murri Murri Aia Vai, veniamolo Ok Eh, oi Redez Io non ho fatto niente Ah, Pepo Porca miseria Sei tu Vediamo un po' se Niente Guardate quanto è resistente Pepo Porca miseria Impossibile da abbattere Dobbiamo provare a sfondare il muro Ma non so come cazzo si faccia Proprio sinceramente Allora Sono le 18.54 Io ci provo ragazzi Ci provo proprio Ancora Even in free time Ah, ah Chi è questo? Che mimini? Marcus Sei venuto da me ma Sleeping pills No, Pepo Porca miseria Ho sbagliato pulsando Ho picchiato Pepo Al volo proprio Si, si stanno menando Stiamo facendo tardi Io adesso Ci provo Al massimo Mi rischio La galera Allora Mi metto qua E aspettiamo Ok, mi cambio Ok, sto ancora a zero ragazzi Merda Non sono testa di cazzo Di notte è un macello Non si può andare da nessuna parte Ma con la lima Che caspito ci devo fare La lima non apre nulla Oh, oh, oh Ah, passo inosservato Passo inosservato Dai colleghi qua Ottimo Ottimo Questa è una cosa ottima Porca miseria Perché non posso uscire Però è una cosa ottima Che io ho vestito Da Da sbirro A me non mi dice niente Nessuno Ultrale Anima Sorrida Dove cazzo è Muri quando serve Muri Eccoti qua Muri ti devo menare Per forza Per Spatola Oh, questa poteva essere Porca miseria Vabbè Questo Ok Con la spatola posso Scavare Stavo scavando qua Vediamo se si taglia Però vedete Non esce nulla qui Non so se stia Oh ma tutti qua Dove lo passiamo Questo mi serve assolutamente Andiamo Andiamo qui Mettiamolo Ok Sali su Levati dal cavolo Oh 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 Scusa 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 4% Dai Ok Ah cazzo Ma ogni volta La devo svitare Ah è qui Devo svitare pure questo Non so dove porti 64 52 Marca traia E mo Morirò qui dentro Nooo 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 Cavolo Tutto qui dentro No Nooo No ragazzi Come faccio Mi devo ricordare Ogni volta Che porca miseria Vabbè Rinizierò dal Dal prossimo salvataggio Boh Cioè sto cercando di capire Delle cose E va bene Va benissimo Però è tostissimo